Cielo parzialmente coperto, temperatura mite. Passiamo subito alla lettura delle formazioni, quella del Castelnuovo preannunciata con Franchi, Coppola, Cipolli. Cante, Magnani, Cicci, Fiori e Francini. Per la lettura dello Spezia, le ultime dalla formazione bianconera, la linea Marco Rocca. E' un buon pomeriggio quindi agli amici di Canale 56 e Noi TV, uno Spezia che si presenta con una formazione che era stata pronunciata alla vigilia, quindi con Rubini, Melucci Sottili, Mingazzini, Bordino e Gutili, Chiappara, Coti, Agostini, Catalano e Zaniolo, Andrea Mandorlini, Porta in panchina, Sforzi, Picagna, De Vincenzo, Salsano, Fiori, Sanguinetti, Carlet. Alla fine è stata scelta, credo Guido, la soluzione più giusta, diretta televisiva, nessun problema fino a questo momento da parte dell'ordine pubblico, a te Guido. Sì, linea subito allo studio, ci risentiamo fra un paio di minuti per la telecronaca di questo attesissimo derby, Castelnuovo Spezia. Grazie.